L'hanno chiamata Sistema, l'inchiesta che fa luce su 20 anni di storia dell'Andrangheta Cosentina, che con il blitz interforse scattato all'alba di questa mattina, ha portato all'esecuzione di misure cautelari per 202 persone, impiegati centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, un vero e proprio terremoto che ha scosso dalle fondamenta la provincia Abruzia, interessando professionisti, imprenditori, amministratori pubblici e gli esponenti di diversi gruppi criminali. Patitucci, Porcaro, Presta, Di Puppo, D'Ambrosio, gli zingari ibruzzese, detto gruppo dei banana e il gruppo detto degli altri zingari. Per superare i contrasti e per seguire il dominio sul territorio, i clan avrebbero raggiunto un nuovo assetto, con un'unica struttura verticistica, alleanze e disponibilità di armi e la presenza di una cassa comune, la cosiddetta bacinella. Anni di indagini di polizia, carabinieri e guardia di finanza messe in rete e portate a sintesi grazie al coordinamento della procura antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, il contributo di decine di collaboratori di giustizia, in oltre 530 pagine di ordinanza del GIP Alfredo Ferraro, la geografia dell'Andrangheta nel Cosentino, le infiltrazioni in ogni settore della vita economica e in quella politico-istituzionale. Ci sono il traffico di droghe, il riciclaggio, il business del gioco d'azzardo, ma anche le relazioni con la politica. Tra le 50 persone finite ai domiciliari anche il sindaco di Rende, presidente dell'Anci Calabria, Marcello Manna, accusato di scambio elettorale, politico mafioso e due assessori dei comuni di Rende e Cosenza, Pino Munno e Francesco De Cicco. Per noi era un'indagine che poteva fare una sola forza di polizia, nel senso che ogni forza di polizia già ci lavorava su famiglie di indrangheta, già ci lavorava sui territori, allora bisognava mettere in rete, mettere a regime tutto. Per noi non è stato difficile far lavorare a regime tutte e tre come se fossero uno in corpo, perché ci sono investigatori di primissimo piano qui nel distretto di Catanzaro, mandati dai vertici delle forze dell'ordine, che io ringrazio sempre, il comandante generale Carabinieri della Guardia di Finanza e il capo della polizia. Non danno dettagli dell'indagine gli inquirenti nel corso della conferenza stampa tenuta nei nuovi uffici della procura, voluti dal procuratore Gratteri, nella sede dell'ex ospedale militare, un convento del Quattrocento appena finito di ristrutturare. Le direttive del ministro Cartabia rappresentano un bavaio per forza dell'ordine ai magistrati che con le nuove norme non possono neppure essere citati. La stampa è potente, ha potere. Chiedete ai vostri editori di dire ai referenti politici di cambiare la legge. Fino a quando non cambia la legge io non intendo essere né indagato né sottoposto ai precedenti disciplinari. Solo riflessioni più generali sul valore di un'operazione vastissima che ha riguardato la provincia finora meno interessata dalle indagini antimafia. Il tessuto economico è stato sostanzialmente interamente interessato dalle attività estersive sul territorio. Accanto a questo le attività di usura e l'esercizio abusivo del credito è anche questo che ha impattato su moltissimi settori economici del territorio. Quindi questa è una caratterizzazione tipica delle organizzazioni criminali che sempre sul piano cautelare sono state riconosciute dalla GIP. Sequestrati beni per 72 milioni di euro, quote societarie, conti correnti, ville, terreni, fabbricati, ma anche uno yacht e un aereo ultraleggero, il frutto di due decenni di attività illegali.